Se porta a Santo Spirito trionfa nelle giostre e porta del foro, primeggia ancora una volta nelle prove generali, riuscendo a conquistare la quarta porchetta delle ultime cinque edizioni. Decisivo il 10 messo a segno da Davide Parzi e ad Alberto Rauco, Santa Andrea si è firmato sul 7 e da sottolineare comunque l'ottimo esodio di Saverio Montini, che ha colto un ottimo 4, porta Santo Spirito e porta Crucifera sul 9. La prova generale è stata corsa in memoria di Guido Raffaelli, un commosso applauso ha ricordato in piazzi il popolare Ciuffino, al termine della serata un bel gesto di porta del foro che ha donato la targa al quartiere di porta Crucifera, considerato che Guido Raffaelli è stato proprio con i colori rosso-verdi il capitano con più vittorie della giostra. Era una cosa che era giusta così, assolutamente, perché ci sono cose, come ho scritto anche sui social, che non hanno colori e questa è una di quelle, perché Capitan Ciuffino deve restare, qualsiasi ricordo di Capitan Ciuffino deve restare a porta Crucifera, indubbiamente. Ovviamente il quartiere vi ha ringraziato, cosa vi ha detto? No, ho fatto un bel comunicato stampa, ovviamente ci ha fatto piacere e poi tramite sempre social, tanti ringraziamenti anche dal vivo, insomma ci hanno veramente ringraziato in maniera calorosa come sono loro, insomma, quindi ci ha fatto molto piacere. E poi intanto un'altra prova generale che si porta a casa. Sì, ecco, al di là di tutto poi fare 10 in prova generale non è come farlo in giostra ovviamente, però la cosa a cui premia noi in questi anni è stata proprio la continuità di questo progetto, ovvero portare comunque più giostratori a un livello ottimale per poter fare la giostra. Il progetto sta andando avanti, i risultati stanno venendo e quindi questo ci fa molto piacere e ecco, dobbiamo continuare su questa strada, indubbiamente. Anche il prossimo anno dopo il rinnovo di consigli direttivi il quartiere dovrà comunque continuare su questa strada perché è stata intrapresa ormai 4-5 anni fa, sta dando i sufrutti ora, quindi avanti così perché sono convinto che questo quartiere per molti anni si caverà tante soddisfazioni. Ecco, domani mancherà il rettore in piazza squalificato, cosa vi aspettate da questa giostra? Allora, noi ci aspettiamo di combattere contro dei quartieri fortissimi e lo sappiamo, però abbiamo ovviamente, dobbiamo andare in piazza e fare il nostro meglio, quindi il nostro meglio deve bastare per portare a casa la lancia senza guardare tanto davanti, senza guardare tanto dietro, dobbiamo fare la nostra giostra, fare il 110% e poi vedremo quello che succede.